Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove in direzione Firenze ci sono code per un incidente risolto tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina e un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici. In A1 rallentamenti per il traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Per le statali sulla 12 della Betone del Brennero frana al chilometro 59 nei pressi di Giardinetto in direzione Sud. Senso unico alternato per un'altra frana tra i chilometri 66 e 300 e 66 e 350 tra Giardinetto e Popiglio. Sulla statale 62 della Cisa rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori circa 6 chilometri prima di Aulla. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!